Ciao a tutti gli amici della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, io sono Giuseppe Culicchia, il mio ultimo romanzo intitolato Il cuore alla tenebra racconta la storia di un viaggio, un viaggio di un figlio, Giulio, che recupera la salma del padre morto a Berlino. Il padre ha lasciato Giulio e suo fratello Pietro quando erano ancora bambini, si è recato a Berlino per fare il suo lavoro, direttore d'orchestra, e con i berliner ha tentato per lungo tempo di eseguire la nonna sinfonia di Beethoven così come la eseguì Furtwängler nel 1942 in occasione del compleanno di Hitler. Ha detto della critica, quella fu la più grande e straordinaria esecuzione della nonna sinfonia di tutti i tempi. Giulio arriva nella capitale tedesca e scopre nel computer del padre dei file di lavoro, ma non soltanto, anche delle lettere indirizzate a lui e al fratello Pietro, in cui la figura paterna assume una dimensione davvero molto diversa rispetto all'immagine che Giulio si era fatto del genitore. E quindi questo è un libro nel cuore di tenebra di un uomo, nel cuore di tenebra dell'Europa, nel cuore di tenebra del Novecento. Grazie a tutti.